L'incompiuto siciliano, una provocazione come fosse uno stile artistico, una corrente d'espressione ed invece si tratta di una serie di interventi finalizzati al recupero degli scempi che in questa nostra terra troppo spesso costellano il territorio. Nasce da una ricerca che dei ragazzi hanno portato avanti, si intitola l'incompiuto siciliano che è una delle più interessanti ricerche da un punto di vista artistico e sociale che sono state realizzate in questi anni. Da questa intuizione, cioè dal far diventare l'incompiuto siciliano che è uno spreco di denaro pubblico perché questo è un esemplare della corrente dell'incompiuto siciliano quindi quasi diventa uno stile per cui siamo riconoscibili in tutto il mondo e per cui i posteri si ricorderanno di noi per gli incompiuti che abbiamo disseminato nel territorio beh, ho chiamato forse uno fra i più interessanti artisti mondiali che lavora sullo stile come principio anche di sviluppo della sua ricerca e quindi la grande ricerca sulla calligrafia che Said Hawkins ha sviluppato negli anni pensavo si intrecciasse benissimo su questo stile dell'incompiuto siciliano che ai noi dobbiamo in qualche modo con cui dobbiamo fare i conti. A realizzare l'opera Said Hawkins, calligrafitaro messicano di grande fama e profonda ispirazione un artista che tratta con estremo rispetto gli spazi e i luoghi e come gli è naturale, con gli stessi principi, si è approcciato alla realizzazione di quest'opera. Per me è un'opportunità molto importante lavorare qui a Trapani è un'esperienza molto forte e allo stesso tempo molto interessante e conoscere non solo lo stile dell'incompiuto siciliano ma anche questa parte della cultura popolare e generale della città e soprattutto ritengo importante il concetto di sincretismo. Tutto il mondo è stato qui in Sicilia Per me il rosone rappresenta il punto di intersezione delle diverse culture e del differente modo di intendere la società, la politica, la religione L'opera è una traduzione una sorta di trasposizione del mio stile calligrafico di un simbolo del sincretismo. L'opera per molti anni segnerà e caratterizzerà uno degli ingressi di Trapani dandoci colore, simboli e tradizione qualcosa in cui riconoscersi e raccontare perché è proprio vero che dall'etame nascono i fiori.